Abbiamo scelto i peperoncini per il semplice motivo che i pazienti con dermatite atopica hanno il problema del bruciore della pelle e quindi il peperoncino, come si sa, brucia a chi non lo sopporta, a chi gli dà noia. I nostri pazienti non lo sopportano il bruciore, il fuoco sulla pelle. Da oggi il peperoncino sarà l'emblema della nostra, il marchio, il logo che voi volete, della nostra associazione.